L'importanza delle lingue credo che la possiamo ricavare anche da un fatto di attualità. Se pensiamo a Samantha Cristoforetti e alla sua capacità di conoscere 5 lingue, possiamo capire come questo sia uno strumento assolutamente necessario per essere più competitivi in un mondo globale e quindi lo vogliamo fornire questo strumento ai nostri ragazzi partendo dalla scuola, partiremo addirittura dagli asili nido con l'obiettivo di avere un'immersione linguistica costante lungo tutto il ciclo di studi perché noi vogliamo portare il Trentino a essere un territorio trilingue nell'arco di 6, 7, 8 anni in modo da essere ai migliori livelli delle altre nazioni europee. Abbiamo pensato di favorire questa attenzione al tema dell'apprendimento delle lingue straniere cercando di coinvolgere i nostri ragazzi e quindi vogliamo che si mettano in gioco attraverso una sfida anche fra di loro che ha l'obiettivo di giocare, di scherzare però di ricordare a tutti quanto sia importante impegnarsi nello studio delle lingue straniere perché è importante perché i nostri ragazzi devono poter essere protagonisti del loro destino, avere la capacità di costruirselo sul proprio territorio ma anche di attraversare il mondo con la capacità di comunicare con gli altri. Sono certo che vi impegnerete al massimo perché avete la voglia di competere nel sangue ma sono anche certo che capirete tutti quanto è importante il messaggio, magari attraverso la vostra sfida lo potrete lanciare anche ai vostri amici e ai vostri compagni. In bocca al lupo e buona gara!